Penso che porteremo la ratifica insieme al Ministro Gentiloni in Consiglio dei Ministri la prossima settimana e credo che il Parlamento in tempi brevi possa giungere alla ratifica finale. Questo è uno di quei temi sul quale è possibile trovare una collaborazione di molti gruppi politici. Io spero nell'unanimità o quasi su questo tema, il che mi fa pensare che i tempi possano essere davvero brevi, sperare e pensare.